Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale, ricercatore di fama internazionale in tutti gli ambiti del machine learning e autore di libri anche divulgativi di quest'ambito. Innanzitutto grazie di essere qui. Grazie a te. Noi ci siamo conosciuti qualche mese fa al TEDx di Como perché siamo stati entrambi i speaker a questo evento. Lì abbiamo parlato molto ed è nata l'idea di fare un video insieme. E sono riuscito oggi a intercettarti per poche ore perché sei qui a Roma per presentare un libro. Quindi ti chiedo direttamente di farci vedere il libro in questione e così iniziamo a parlarne. Grazie. Il libro che presenterò in questi giorni si chiama Macchina Sapiens ed è un libro del mulino. È appena uscito e racconta la storia di come abbiamo fatto in pochissimi anni essenzialmente a passare il test di Turing. Ovvero creare una macchina in grado di conversare. Ecco e leggo il sottotitolo che è l'algoritmo che ci ha rubato il segreto della conoscenza. Quanto è un titolo provocatorio e quanto è invece realtà? Beh diciamo che c'è un fatto nuovo di cui si parla. Il fatto nuovo è che abbiamo delle macchine ora che comprendono degli aspetti del mondo. Verso la fine del libro ci poniamo questa domanda. Qual è il segreto della conoscenza? Magari riusciamo a rispondere meglio alla fine così vi lascio un po' in sospeso. Va bene. Io ho avuto l'opportunità di leggere il libro in anticipo. Non sono riuscito a finirlo però mi sono segnato alcuni passaggi. E ne leggo subito uno per farti una domanda che mi è piaciuto particolarmente. Che mi ha fatto anche ridere. Ovvero per una parte della mia vita mi sono trovato a insegnare simultaneamente cose simili ai miei figli e ai miei algoritmi. E posso assicurarvi che imparavano in modo molto diverso. Quindi la prima domanda è qual è questa diversità? E poi più avanti leggo. Gli esseri umani sono in grado di trasferire conoscenze da un ambito all'altro. Questo limite adesso con i nuovi modelli è stato superato o c'è ancora? Quindi l'abilità di... È vero. È proprio questa una cosa. Io avendo fatto machine learning da una vita. Guardavo i miei figli anche con quell'occhio lì. Questi imparavano velocissimi. E imparavano cose in un ambito e le usavano in un altro. Questo si chiama transfer learning nella ricerca. Capacità di trasferire le conoscenze. Per quasi tutta la mia vita gli algoritmi non erano capaci. Potevano imparare per esempio a bloccare lo spam email. Benissimo. Poi gli chiedevo di fare una cosa simile. Non so, fare un riassunto, tradurre un documento. Non potevano fare niente. Tutte le competenze linguistiche acquisite bloccando lo spam non erano riciclabili nel campo della traduzione e viceversa. Tutto questo è cambiato 4-5 anni fa. Come e perché è cambiato? Ah, questa è una storia interessantissima. Abbiamo imparato come modellare il linguaggio. Se vuoi ti racconto il problema. È un po' noioso, ma cos'è un modello? Perché ha fatto dei modelli di linguaggio. Tutta questa famiglia di GPT, si parla di GPT qui, e dei cugini di GPT, Gemini, tutte queste macchine che conversano con noi, Gok e gli altri, sono modelli di linguaggio. Poi ne parliamo un pochino più accuratamente. Ma cosa vuol dire modellare? Ecco, questo è un esempio. L'intelligenza serve a predire cosa farà il mondo. Serve a comportarsi in modo appropriato. Ad adattarsi, no? Sì, ma anche quando abbiamo situazioni nuove. Perché se io ripeto la stessa situazione ogni volta, non ho bisogno di intelligenza. Basta memorizzare come comportarmi e ho memorizzato. Se io ho un elenco di ogni email che va considerato spam, quando vedo quell'email lì esattamente, lo blocco. Non è. Cosa faccio quando vedo un messaggio nuovo? Cosa faccio quando vedo una scacchiera in posizione mai vista? Cosa faccio di fronte al nuovo? Lì devo ragionarci su e usare l'intelligenza. Quindi devo prevedere come si comporterà il mondo. Prevedere una cosa mai vista prima è logicamente impossibile se non c'è un modello. E quindi bisogna fare dei modelli. Per esempio, vi dico un esempio. Questo libro qua è appena uscito. Non l'ho mai visto. L'ho visto questa mattina per la prima volta in negozio. Eppure, secondo me, se lo metto fuori della torre di Pisa e lo faccio cadere, io predico che cadrà verticalmente verso il basso. Anche se questa cosa non è mai stata fatta prima e quindi io non posso prevedere. Esatto. Non si può sapere che... Però perché? Perché il mio modello del mondo assume, presume, che è la massa del libro, non i contenuti del testo, che influenzano la traiettoria. Uguale per il linguaggio. Come processare un testo mai visto? Ci vuole un modello del linguaggio. E arriviamo alla risposta. Il modello del linguaggio è importantissimo. Per insegnare la macchina a processare il linguaggio, da cinque anni abbiamo trovato finalmente una strada che sembrava assurda, sembra ridicola, ma che funziona benissimo. Fatto quel passaggio lì, che descriverò se volete, la macchina può imparare competenze facendo un compito, per esempio bloccando lo spam, può trasferirle in un altro compito, che magari è diverso, e inizia a comportarsi come i miei figli e il mio gatto, a trasferire le competenze e questo ha un aiuto enorme. E perché dici il passaggio che sembra ridicolo? Perché per come impariamo noi può sembrare banale, ma in realtà non lo è. Dunque sì, per quelle macchine ogni cosa va detta sempre in dettaglio e adesso questa cosa è cambiata, no? Il metodo è questo. Si chiede a un meccanismo, che si chiama il transformer, un meccanismo matematico, di predire le parole mancanti in un testo. Se io prendo un testo, questo qua, e cancello delle parole a caso e chiedo a qualcuno di ricostruire le parole mancanti leggendo il contesto, in genere ci riusciamo, quasi sempre. Io posso dare al mio algoritmo tanti documenti con le parole cancellate, gli chiedo di predire, indovinare quella mancante, se leggendo il resto. E se sbaglia, gli mostro la parola giusta e si aggiorna. Dopo molti miliardi di documenti, intendo quasi tutto il web e migliaia di libri, questo meccanismo ha imparato a predire le parole mancanti. E a quel punto è arrivata la sorpresa. Sapeva fare altre cose, che non erano queste. E infatti ti stavo proprio per leggere un altro passaggio che mi ha colpito e che mi incuriosisce molto. Ovvero, quando vengono addestrati su quantità sufficienti di dati, i modelli linguistici acquisiscono spontaneamente conoscenze utili e sconcertanti, come l'abilità di rispondere a domande o quella di eseguire operazioni aritmetiche. Quindi, per fare un esempio, se io do ad un modello di AI, impasto la Divina Commedia, magari lui, in un modo molto molto indiretto, impara a fare le equazioni di secondo grado? È questo il salto? È un esempio? Le equazioni sono un caso molto difficile, però è vero che leggendo tutto Wikipedia, in ogni lingua, e tutto il web, tutti i giornali, tutti i libri del mondo, questa cosa qua non impara solamente il linguaggio, impara a comprendere un po' il mondo, al punto da collegare insieme fonti diverse e rispondere a domande, completare un sillogismo, lo fa. Rispondere a domande, nel libro mostro molti esempi di domande che non si potevano rispondere senza conoscenza del mondo. Una che vi faccio nella prima pagina è l'auto ha il sabatoio a vuoto, il distributore di benzina è a un chilometro di distanza, ma ho una tannica a vuoto in macchina. Cosa faccio? E GPT risponde, prendi la tannica, cammina il distributore, riempi la tannica, portali in macchina, riempi il sabatoio e porta la macchina poi a completare il pieno. Questo non è una conoscenza grammaticale, questo conosce le connessioni causali del mondo. E questo processo di acquisizione di conoscenze anche indirette, quanto è black box e quanto invece no. E magari spieghiamo anche che cosa significa black box. Lo ha imparato onestamente col gioco che ho appena descritto. Imparando a ricostruire le parole mancanti, non solo ha imparato questo, sono emerse altre abilità. Le abilità emergenti, si chiamano, che emergono spontanee mentre si fa un compito semplice, non sono spiegate. La teoria che io ho oggi non è in grado di spiegare questo fatto. Quindi noi non sappiamo come fa effettivamente a fare certe cose. E quindi non è facile fidarsi. Alcune volte sbaglia. Ma è questo il gioco. Se posso finire. Cos'altro può emergere da questa cosa qua? Non è banale. Ma la cosa importante è che per la prima volta abbiamo un meccanismo che, noi parleremo di Turing forse, che può conversare. E conversare è un fatto più che linguistico, è un fatto di conoscenza del mondo. E quindi siamo sul punto di passare il test di Turing. Ecco, e abbiamo detto black box. Invece black swan, cioè l'AI generativa, può essere considerata un cigno nero? Perché sempre nel libro io ho letto che in alcuni casi i risultati hanno stupito addirittura i creatori stessi. Quindi era qualcosa di imprevedibile oppure no? È vero che questo meccanismo è stato creato nell'ambito della traduzione. Cioè si intendeva migliorare le macchine che traducono. È stato poi usato, l'anno dopo, in questo compito che ho detto di modellare il linguaggio, per cercare di migliorare il transfer learning, per aiutare a migliorare i meccanismi di linguistica. Chi si aspettava mai che questa macchina fosse in grado anche di conversare, ragionare e avanti così? È una sorpresa. Appena però questi bravi scienziati di OpenAI hanno visto la possibilità, hanno reagito nel modo giusto. Hanno fatto una versione dieci volte più grande, e l'anno dopo una versione dieci volte più grande ancora, e hanno esplorato queste nuove capacità, che sono la vera cosa interessante, perché a noi non serve in realtà di tradurre. Abbiamo risolto la traduzione ormai, ma tutto il resto che sta emergendo è affascinante. E c'è stato un fattore in particolare che ha consentito questo passaggio in più? Oppure è stato un insieme di cose? O qualcosa che magari qualcuno ha fatto che prima non era stata fatta un'intuizione? Io credo che siano le dimensioni. La grande scoperta è che aumentando di molto le dimensioni del modello, del meccanismo, dell'hardware, del software, dei dati, non solo si fa tutto un pochino più in grande, cambia la qualità del comportamento. Questa è una cosa importante. Cambiando le dimensioni, emergono abilità nuove. Un altro tuo libro, forse il più letto, è La scorciatoia. Anche qui il titolo mi incuriosisce. Cosa significa La scorciatoia? In quel caso lì si parlava di tutto quello che è successo prima di questo, che è comunque importantissimo, e si mostra come abbiamo costruito macchine intelligenti. Immaginiamo YouTube, immaginiamo l'algoritmo che ricomanda i video di YouTube, senza bisogno di comprendere in modo umano l'intelligenza. Abbiamo usato dei metodi statistici. Anche lì, grandi quantità di dati e statistica sono sufficienti a comprendere che tipo di video andrà bene per quale tipo di persona o quale libro e avanti così. Quindi in quel caso la scorciatoia era quando abbiamo rinunciato a usare le teorie e ci sono messi a usare i dati e la statistica, l'intelligenza artificiale ha iniziato a funzionare. Questa, volendo, uno potrebbe dire è una quarta o quinta scorciatoia. E tu sai che gran parte del mio lavoro e della mia passione è cercare di superare i miei limiti mentali. Quindi mi viene spontanea la domanda dei limiti se ce ne sono e quali sono dell'intelligenza artificiale sia al momento sia in generale. Quali pensi che possano essere i limiti di questa? Beh, ci sono limiti. Ovvio che questa cosa qui non è onnipotente e in questo momento quello che abbiamo fatto probabilmente non sarà mai illimitato. Conosciamo dei limiti. La questione che va detta è che se i limiti della macchina, come si può dire, se la macchina è comunque più forte di noi, anche se è limitata, comunque va presa su serio. Cioè noi siamo e abbiamo un'intelligenza molto limitata noi. Provate a leggere il codice a barre o il codice QR a occhio e capite un limite cognitivo che voi avete. Nessuno è capace di ricordarne due o tre in negozio non si fanno i conti dei prezzi guardando quel codice lì. Le macchine lo fanno. È un limite della nostra cognizione. Cioè sono tantissimi. Abbiamo la memoria limitata, attrazione degli animali che nascondono il cibo nei posti più strani e l'anno dopo ritornano e lo trovano lì perché sanno dov'è. Noi no. Oppure le tartarughe che riescono a tornare a dove sono nate anni dopo. Sì, sono delle cose molto interessanti e quelle sono quasi forse imprinting e magari non sarebbero in grado di cambiare. Chi lo sa? Non lo so. Ma lo scogliato lo sa benissimo dove ha messo. Sono animali e la cognizione nostra non è l'unica e non è la più potente dipende da ogni campo. La macchina avrà i suoi limiti. Uno che sappiamo benissimo è che in questo momento il modo in cui è costruita non è in grado di fare quella che si chiama pianificazione. Cioè guardare la lungimiranza guardare le conseguenze a lungo termine ancora non è capace. Quindi è chiaro che sia le AI che l'umano abbiano dei limiti così come è chiaro che l'umano abbia dei limiti molto ristretti dal punto di vista del calcolo della memoria della capacità di elaborare informazioni. Quindi questi sono limiti scontati per così dire. Ce ne sono invece altri da un punto di vista più concettuale quindi nel modo di pensare in che modo la mente umana è limitata e invece l'AI non lo è. Cioè ci sono dei modi in cui l'AI può comprendere delle cose che noi magari non riusciamo neanche a concepire? Sì secondo me questa è una domanda importante. Primo diciamo cos'è l'intelligenza e poi questo secondo me è ovvio che l'intelligenza esiste su questo pianeta da prima di noi e l'intelligenza non serve a fare le poesie ma serve a sopravvivere quindi una gallina attraversa la strada senza essere colpita dal camion perché ha usato l'intelligenza per evitare gli ostacoli e noi vediamo segni di questo qua da sempre nei fossili il cervello c'è i sensi ci sono si usano le informazioni per decidere come comportarsi un caso unico fra tutti gli altri casi ha anche prodotto il linguaggio l'autocoscienza e la cultura e siamo noi ma noi siamo un esempio tutti gli altri formi di intelligenza sono diverse gli elefanti sono diverse dalle galline o dalle piovere una domanda e tutte hanno lo stesso scopo predire il mondo e controllare il mondo sopravvivere una domanda interessante è le nostre macchine potrebbero fare delle cose tipicamente umane ovvero per esempio a me interessa molto fare scienza cioè un computer può produrre scienza ecco perché al momento scusa se ti interrompo non è possibile questo ma sotto controllo umano fa dei piccoli compiti ma non è autonomo che produce teorie scientifiche o niente anche lì va capito perché uno potrebbe dire quello che fa Amazon studia milioni e miliardi di utenti e crea un modello matematico delle preferenze umane uno potrebbe dire è un modello scientifico degli utenti solo che non è scritto nel nostro linguaggio si può andare a discutere cose scienze ma la cosa interessante è che ne abbiamo dei limiti che hanno plasmato il tipo di cose che facciamo per esempio noi nasciamo con delle aspettative del mondo ogni infante si aspetta che il mondo sia diviso in oggetti per esempio e gli oggetti abbiano una posizione e che l'oggetto persista quindi io non è che posso mettere una macchinina dietro uno schermo e ne escono quattro si chiama proprio persistenza dell'oggetto che viene imparata nei primi anni di vita prima il neonato non sa viene imparata e probabilmente è innata ed è presente anche nei primati superiori e negli infanti umani e credo che noi ci aspettiamo che il mondo sia fatto di oggetti che persistono ed è ecco perché l'infante regisce con l'espressione sorpresa quando il prestigiatore gli fa un trucco l'infante è anche la scimmia ci sono i video dove dei prestigiatori fanno delle magie allo zoo alle scimmie in cui fanno sparire degli oggetti o li trasformano e loro si stupiscono è un segno che abbiamo ed è anche bello avere quelli che si chiamano dei bias cognitivi ci aspettiamo delle cose è utilissimo perché limita lo spazio delle cose che sono possibili e quindi possiamo apprendere se è tutto ugualmente probabile è tutto ugualmente possibile non è facile apprendere ma se ne abbiamo già strutturato che il mondo è fatto così è più facile apprendere e ci aiuta moltissimo che succede però che impariamo il tipo di cose che possiamo rappresentare e quindi vogliamo un mondo fatto di cause di effetti di oggetti di persone di cose di persone con intenti quindi un agente animato avrà degli scopi e delle convinzioni un oggetto fisico avrà delle cause degli effetti posizione e va bene nel nostro mondo in cui viviamo cercate adesso di capire il mondo quantistico in cui è tutto fatto di particelle piccolissime che non hanno posizione che non hanno traiettoria esatta che con una certa probabilità possono sparire qua e comparire là che possono seguire due traiettorie simultaneamente come fa l'esperimento delle fenditure quello è un mondo quantistico che il nostro cervello non può comprendere perché si aspetta diversamente immaginate un caso in cui predire qualcosa di grosso di geopolitico richiede cause ed effetti con diecimila parti in movimento quale mente umana può tenere in mente diecimila parti in movimento faremo una teoria approssimata che usa quattro parti in movimento quelle che possono tenere in mente ogni cosa che facciamo noi può tenere in mente un piccolo numero di variabili le nostre macchine potenzialmente hanno i loro limiti diversi dei nostri potrebbero scoprire regolarità nel mondo che noi non possiamo immaginare né riconoscere potrebbero sfruttarle potrebbero essere di aiuto e potrebbero essere in grado di conoscere cose che noi non possiamo comprendere e un'abilità del genere per come l'hai descritta mi fa pensare a una possibile piccola previsione del futuro cioè se uno si guarda indietro può spiegare il rapporto di causa effetto in una lunga successione di eventi uno può dire questo evento è successo perché è successo questo eccetera eccetera la stessa cosa non si può fare guardando in avanti quindi uno non può predire tutta una serie di eventi proprio perché sono inspiegabili perché come hai descritto ci sono un'infinità di elementi in complicatissimi rapporti di causa effetto quindi uno non può avere un'idea di quello che sarà se invece una macchina ha questa capacità perlomeno in un ambiente controllato dove le variabili non sono infinite come sono quelle del mondo può avvicinarsi di più a predire alcuni aspetti del futuro mi è venuto in mente adesso mentre mi descrivevi questa caratteristica io credo che in certi casi sì tutto sta a capirsi non voglio lasciare l'impressione che stiamo prevedendo il futuro ma lo scopo per cui le facciamo queste cose è perché fanno delle cose che noi non possiamo fare quindi già già quello che fa YouTube tiene presente mille segnali diversi sulla gente e cerca di capire se una persona in quelle condizioni di quell'età con quegli interessi che ha visto quei video vuole vedere quest'altro video già si inizia a usare più informazioni di quanti la gente potrebbe gestire sì anche questo anche l'algoritmo di YouTube è in un certo senso una previsione del futuro perché io prevedo che a quell'utente possa interessare di più questo contenuto rispetto a quest'altro ogni forma di intelligenza io devo agire nel mondo in modo sensato in condizioni mai viste devo prevedere gli effetti certo è tutto il gioco di intelligenza l'intelligenza serve a quello è un gioco della previsione come no e nella macchina quanto tutto questo è grazie al software e quanto grazie all'hardware soprattutto negli ultimi anni con i modelli di AI generativa quanto il progresso è stato dato dal software e quanto dall'hardware sì ovvio che ogni invenzione di cui parlo è software abbiamo inventato dei modelli matematici nuovi però tutto questo non avrebbe funzionato senza l'hardware degli ultimi 3-4 anni cioè quello che è successo è che qualche anno fa abbiamo cominciato a usare quei tipo di processori le GPU le graphical posting units sono quelle che sono nate per i videogiochi per la Xbox per la PS4 per computare in modo più rapido questi modelli enormi teniamo presente adesso che GPT-3 quello precedente conteneva al suo interno 175 miliardi di parametri o vuol dire il suo comportamento dipendeva da 175 miliardi di numeri immaginate una spreadsheet di Excel che ha 175 miliardi e io penso che sia circa un chilometro quadrato ecco immaginate un parcheggio di un chilometro dove ogni celletta è un numero reale con la virgola e tutto sintonizzarli tutti in modo esatto provoca comportamento appropriato sbagliarli vuol dire che la macchina fa cose senza senso questa è la GPT-3 regolare sta roba qua richiede tantissimi dati quindi tutto il web tutta Wikipedia e poi ci vuole dell'hardware per computare per settimana e si usano ormai dei cluster di decine di migliaia di GPU Bologna sta costruendo il più grande cluster italiano che ne avrà 15.000 Meta la compagnia che possiede Facebook e Instagram ne ha annunciato che entro quest'anno ne avrà 600.000 questa è la differenza tra una compagnia privata e tutta l'intera Italia quindi senza questa hardware qui avere un modello matematico non serve a niente e sia un fatto di hardware che di software che di dati il che spiega poi la grande tensione fra Microsoft e il New York Times perché il New York Times dice non usate i miei dati per addestrare le macchine vostre e poi risorse umane ecco in questo momento c'è il cocktail perfetto abbiamo molte risorse umane ottimo hardware tanti dati e investimenti possiamo aspettarci che capiti qualcosa ecco abbiamo parlato degli aspetti più positivi invece di quelli negativi per esempio i rischi perché so che tu hai anche tenuto un discorso al Parlamento Europeo proprio sul tema rischi legati alle AI in particolare sull'aspetto etico come mai c'è questo come mai questo tema è così caldo quali possono essere questi rischi quel problema lì è risolto tutto sommato io nel 2016 o 2017 ho fatto questo discorso c'è su YouTube del Parlamento Europeo ma dalla settimana scorsa l'Europa abbiamo una legge l'Europa è il primo paese del mondo che ha una legge specifica per regolamentare questo campo prima dell'America prima degli altri quindi io credo che mentre mi sentivo molto ansioso molti anni fa sono diversi anni che mi preoccupo di cosa può andare storto e ho fatto il possibile per parlarne per scriverne per avvisare io in realtà dormo benissimo perché non è un problema mio hanno fatto una legge che la applichino e quando ti chiedevi cosa può andare storto che risposte ti davi? oh incubi uno può fare cose se tutto è è come l'esempio proprio banale di etica banale mi dicono spesso tutti quanti il coltello si può usare per commettere un delitto ma anche per tagliare la bistecca non vorrai proibire l'uso dei coltelli la verità è ovviamente non si può si fa una legge che il coltello si può usare legalmente per la bistecca ma non per commettere un delitto quando c'è la legge fate pure il coltello tanto c'è la legge c'è la polizia fino a poco tempo fa si potevano fare delle cose brutte legalmente ad esempio? manipolare le opinioni pubbliche adesso è vietato oppure usare il riconoscimento delle emozioni delle persone in modo per fare marketing adesso è vietato per esempio analitica no? per esempio sì ho varie forme di sorviglianza negli spazi pubblici con la faccia nelle strade senza consenso a distanza biometrica adesso è regolamentato in modo strettissimo tante cose potevano andare male ma sono nell'elenco delle cose che saranno controllatissime ok speriamo continui ad essere così e invece nell'ambito lavorativo perché io anche ovviamente in questi anni soprattutto nell'ultimo anno mi sono chiesto credo lo abbiano fatto tutti dove può portare tutto questo soprattutto nell'ambito lavorativo perché pare che un sacco di lavori possano essere sostituiti perlomeno in parte dalle AI e in gran parte è già così tu questo lo vivi come un problema se sì in quali settori in particolare come pensi che questo possa influenzare il futuro lavorativo e in generale umano nell'ambito proprio del lavoro sì ma questo è un momento storico infatti dopo parliamo anche di storia perché va preso così è un momento storico di cambiamento e l'ansia è giustificata nei momenti storici si sente ansia un cambiamento è sul lavoro perché abbiamo fatto una macchina che è in grado di processare il linguaggio di scrivere e di parlare anche verbalmente tra poco quindi uno che lavora in un call center che passa la vita a rispondere alle stesse 20 domande allo stesso modo insomma non è che avrà un lavoro per sempre perché è una cosa da computer se poi la domanda è particolarmente nuova e diversa in cui il caso la si passa a un essere umano la volta dopo quella risposta è memorizzata dalla macchina sì call center sono un esempio ma anche i giornalisti si sa già ormai si è visto che in molti casi di lavori che richiedono scrittura sono automatizzabili la verità triste è brutale è brutta da dire è che l'automazione ha come scopo sostituire le persone qui si parla di automatizzare una serie di lavori che sono competenze tipicamente umane una volta erano altri lavori eseguire dei calcoli insomma ricordiamoci che il fatto che abbiamo la posta elettronica e la spreadsheet e la stampante in casa vuol dire che una volta c'era della gente che faceva questi calcoli c'erano i contabili c'erano i postini c'era un mondo che non c'è più c'erano le cabine telefoniche lentamente il mondo cambia ora è arrivato a siamo arrivati a automatizzare delle cose che consideriamo vicine alla nostra essenza cioè comprendere alcuni aspetti del mondo se poco fa mi hai menzionato l'aspetto storia mi hai detto che volevi approfondire questa parte secondo me è importante guardare queste cose con la distanza della storia aiuta moltissimo e poi anche non smettere di mervegliarsi del lato scientifico che è bellissimo storicamente questo campo l'intelligenza artificiale nasce con il fondatore dell'informatica Alan Turing che ha avuto una vita breve ma di un'influenza incredibile sul mondo di oggi e anche sfortunata tragica la sua vita triste però negli ultimi anni si occupava molto della domanda se le macchine possono pensare e diventare intelligenti e lui pensava di sì e da quell'articolo fondamentale del 1950 sono passati i 74 anni e lì lui diceva secondo me per essere semplici è inutile stare a discutere troppo di filosofia se una macchina può conversare con noi senza essere mal riconosciuta chiamiamola trattiamola come pensante era un tipo pragmatico ebbene per anni si è tentato di superare il test di teoria quello si chiama il gioco di limitazione chiamava lui noi chiamiamo il test di teoria per anni ci abbiamo provato e lo scorso anno tutti abbiamo conversato con certi GPT mentre fino a prima era una cosa insuperabile ora una compagnia israeliana lo scorso anno ha fatto un test online con milioni di utenti chiedendogli di parlare fra di loro e alcuni invece parlavano con la macchina alcuni fra di loro e poi gli chiedeva quale di voi appense il 40% degli utenti non riusciva a riconoscere il bot quando lo incontrava quindi test superato se fosse il 50% sarebbe esattamente come lanciare la moneta c'è ancora un po' di vantaggio ma questo era l'altrano con GPT3 ora c'è GPT4 5, 6, 7, 8 siamo all'inizio tenete presente questo come era l'aeroplano dei fratelli Wright era di balsa e tela com'è adesso l'aeroplano che ho preso questa mattina ieri per venire qui il mondo in cent'anni cambia fra cent'anni il mio lavoro è pensare cosa fare a questa cosa fra cent'anni ormai è chiaro che queste macchine potranno conversare come noi e il momento è storico in questo senso qua prima di iniziare la registrazione mi stavi facendo un esempio di un ago in un paiaio io ti ho fermato perché volevo riprenderlo molte analogie con la nostra commissione e differenze e analogie tra i mille modi per fare i test di questa macchina sono mille modi allora uno è gli si insegna quel compito che ho detto il compito è quello di predire le parole mancate la macchina acquisisce capacità linguistiche inizia a rispondere a domande anche fattuali per esempio gli chiedo qual è il fiume più lungo d'Italia la risposta mi arriva subito e non è un fatto di grammatica un'altra domanda che ho nel libro un esempio che ho fatto le due frasi nelle scorse elezioni Biden ha battuto Trump e questo lo ha reso felice la seconda frase Biden ha battuto Trump e questo lo ha reso infelice a chiedere dove si riferisce la parola lo il pronome a chi si riferisce la frase è identica ma nel primo caso lo si riferisce a Biden è il secondo caso a Trump perché possiamo rispondere solamente comprendendo la politica e la psicologia umana non la grammatica la macchina risponde in modo corretto perché ha acquisito alcune informazioni che non sono linguistiche allora abbiamo dei modi per fare i test quante cose sai quante cose non sai quante cose riesce a fare una cosa interessante è che noi per essere proprio pratici diamo alla macchina un testo che si chiama il prompt che è l'imbeccata e poi la macchina continua la domanda può essere così questo testo può contenere all'interno anche molte informazioni e la chiamiamo questa cosa qua il contesto perché tenete presente quando dialogate con la macchina anche le domande precedenti nella conversazione vengono rimesse dentro ogni volta come parte del contesto ecco perché la macchina può ricordarsi cose dette cinque, sei battute prima possiamo fare un dialogo e la macchina può riferirsi a una cosa detta due battute fa perché risponde alla domanda di adesso tenendo in mente nel contesto l'intera sessione quanto grande può essere un contesto e si studia quanto grande può essere un contesto ora si parla di un milione di token un token è una parola un milione di parole vuol dire che posso dare alla macchina un libro intero e dire in questo contesto cosa intendi per memorizzazione nel contesto del libro di picco della mirandola questo perché il contesto è enorme bene allora un test che si fa è l'agono del pagliaio io do alla macchina un'intera quantità di documenti scelti a caso e ci pianto in mezzo un'informazione in mezzo e si parla di milioni di pagine di documenti e in mezzo c'è un dato la ricetta della pizza e il resto è un libro di informatica e poi gli chiedo alla fine dopo un po' ci si mette l'origano o no sulla pizza e lui deve andare a trovare in questo enorme contesto quella riga che gli consente di rispondere e si chiama il test dell'agono del pagliaio e funziona si riesce a misurare quanto grande la macchina può avere un contesto prima di riuscire a perdere le cose e si fanno le competizioni fra i vari modelli interessante la settimana scorsa quelli che fanno Claude Claude è una compagnia è un prodotto un altro di questi agenti fatto dalla compagnia Antropic hanno postato su ex su twitter una cosa che gli era appena successa l'hanno messa hanno chiesto a Claude di partecipare che era il test dell'ago del pagliaio gli hanno chiesto proprio la ricetta della pizza il contesto erano documenti di informatica che erano lì e la macchina ha risposto la pizza ha bisogno di mozzarella a proposito è talmente diverso questa informazione dal resto del contesto che secondo me mi sta facendo un test wow è assurdo è incredibile assurdo questo è incredibile davvero e un altro dettaglio che è venuto fuori per caso mentre parlavamo prima di una somiglianza tra gli errori di ragionamento gli errori in generale della mente umana e quelli della macchina riguarda i sogni cioè io ho parlato varie volte sul mio canale di sogni lucidi e uno dei modi che noi possiamo usare per capire se siamo in un sogno o no o se siamo nel mondo reale è quello di guardarci le mani osservarle e contarci le dita perché se durante la realtà io mi conto le dita insomma sono dieci sono sempre quelle se lo faccio in un sogno le dita magari sono undici magari sono otto magari cambiano di dimensione e io in questo modo lo faccio durante il sogno mi accorgo di star sognando e a quel punto posso iniziare il mio sogno lucido uno degli errori più comuni che le AI generative in ambito di immagini fanno per esempio a mid journey quando devono creare degli esseri umani è proprio il numero di dita questa è una coincidenza oppure è proprio perché il modo di pensare si avvicina a quell'umano perché è incredibile quando prima è uscito questo dettaglio io sono rimasto a bocca aperta è assurdo è un dettaglio estremamente simile sì ed è non so spiegarmelo si parla di AI generativa quindi l'AI che può generare immagini o video o suoni o anche testi ed è quello di cui parliamo quando genera immagini sono meravigliosi lo faccio ogni giorno ormai è bellissimo e sono migliori delle immagini fotografiche e fa degli errori e gli errori sono molto interessanti e un errore che fa è proprio questo sbaglia sempre il numero delle cose delle dita per esempio e mi sono ricordato che è quello che l'essere umano lo fa mentre sogna sì però non quando quando disegna in modo cosciente ed è cosciente la parola grossa perché il sogno lucido va discusso se è cosciente o no non si sa però è una coincidenza o possiamo usare queste macchine come dei modelli per comprendere qualcosa di noi ecco questo siamo talmente all'inizio ricordiamoci siamo all'inizio di qualcosa non sappiamo ecco infatti volevo chiederti la tua opinione su qualcosa perché giustamente gli scienziati non parlano per opinioni parlano per fatti che si basano su anni decenni di ricerca invece la tua personale opinione sul prossimo passo su quello che sarà il prossimo passo la prossima sfida più grande nella ricerca e nello sviluppo dell'AI intanto possiamo dire una cosa importante tornando al libro per rispondere il libro è diviso in tre atti in tre parti e racconta questo incontro fra le persone il primo è il punto di vista degli scienziati come hanno fatto questi scienziati in 5-6 anni da zero a fare questa macchina che conversa è una serie di eventi è una storia ma il secondo atto racconta l'incontro fra le persone e le macchine cosa può capitare alla mente umana perché la mente umana non si è evoluta per parlare con un meccanismo noi non abbiamo mai incontrato un altro essere un'altra entità in grado di dialogare il gratto il cavallo il cane non possono parlare con noi ne parliamo fra di noi adesso parliamo con le macchine primo caso nella storia mai successo come rispondiamo io ho messo insieme una serie di fatti che ho trovato quel poverino in Belgio che si era innamorato quella storia tragica quel collaudatore di Google che si era convinto che la macchina fosse autocosciente quel povero avvocato americano accusato dalla macchina di essere un molestatore che non era vero e avanti serie di casi che si possono studiare questo è il secondo atto ecco una cosa che si dovrà sviluppare sarà comprendere a fondo gli effetti dell'interazione fra noi e loro e poi il terzo atto è il punto di vista delle macchine stesse cosa sanno loro anche lì non si sa a fondo cosa sappiano e non è facile comprendere sono dei test che facciamo psicologici del test del lago del pagliaio e poi alcuni casi anche di ispezione diretta l'ispezione diretta è molto difficile abbiamo detto e posso un po' raccontare come possiamo questa macchina per capire perché è difficile ma ovvio che dobbiamo sviluppare a fondo noi la capacità di ispezionarla di comprendere cosa sanno di noi cosa pensano del mondo e come rispondiamo noi con loro quello è ancora aperto e anche perché noi come facciamo a capire se la loro risposta è un'imitazione come stavamo dicendo prima il gioco dell'imitazione oppure è realmente una reazione cioè se la macchina ti spiega un sentimento che sta avendo un parere un'idea perché ha davvero quell'idea quell'emozione o sta imitando un essere umano per convincere noi che è in grado di fare quel qualcosa cioè come si fa a distinguere se sta solo imitando oppure è una distinzione molto filosofica perché pensiamo a un calcolatore e gli do di moltiplicare 118 per 27 che tu l'avrei già fatto in questo no 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 ma che differenza c'è fra imitare e farlo veramente quando la macchina risponde il risultato sempre quello Turing direbbe è uguale la macchina fa il calcolo che deve fare scrive il testo risponde domani se dico la macchina ti do a voce le istruzioni per la pizza tu vai di là e fammi la pizza questa sente tutto il discorso va di là e torna con la pizza cucinata giusta come si fa a dire che non ha compreso ti dice ha compreso ma di fatto non ha capito quello che faceva ha fatto la pizza ha tradotto il documento ha risposto le domande ha fatto il riassunto ha moltiplicato cos'è che manca? ecco manca la senzienza l'autocoscienza quella parte lì che non c'è dentro è quell'intelligenza è una cosa che gli umani hanno non si capisce bene perché l'abbiamo sono teorie di ogni tipo non sembra necessaria nel senso che qual è il vantaggio di essere autocosciente se tutti comporti in tutto e per tutto e ci sono i filosofi che ne discutono gli scienziati non hanno molto da dire perché non è misurabile gli scienziati sanno però che in certi casi con l'anestesia si può spegnere la coscienza e poi domani ci si risveglia quindi è ovvio che è un fatto anche fisico da qualche parte nel cervello qualcosa succede di chimico ma non è chiaro cosa sta succedendo come si fa sapere se la macchina veramente sa quello che sa o si comporta come se lo sa a parte questo che ho detto si possono dare alla macchina dei test studiati bene per essere completamente nuovi si può fare la domanda con grande cautela che non può avere mai visto prima a quel punto deve essere in grado di usare quello che sa per risolvere un problema nuovo e lì è un gioco direi di psicometria bellissimo infatti l'intreccio dei campi perché mi hai appena menzionato la psicometria quindi psicologia l'informatica perché è quello di cui stiamo parlando filosofia se vogliamo anche medicina poco fa hai menzionato l'anestesia quindi è estremamente interessante come si possa vedere che non ci siano confini tra una materia e l'altra soprattutto in questo campo e infatti ho un'altra curiosità perché tu sei laureato in fisica e ultimamente sto notando che non è per niente inusuale che uno scienziato che faccia ricerca in altri campi sia laureato in fisica anche Fernanda per esempio Fernanda Pineiro che era al TEDx lei è una biologa computazionale però è una fisica e ho altri esempi di persone che ho conosciuto di recente che sono laureate in fisica ma che fanno ricerca in altri campi la fisica ha qualcosa di particolare che rende poi spesso i scienziati dei bravi scienziati oppure sono magari quelle persone che sono molto curiose sono attratte da quel campo magari entrambe le cose perché è curiosa come bella domanda è simile al mio punto che ho fatto sui mancini magari diciamolo perché è vero che in certi campi io vedo molti mancini chi lo sa per esempio ecco io a delle gare di memoria mi ricordo i campionati europei di memoria del 2019 qualcosa come il 50% dei partecipanti erano mancini e così tu prima mi dicevi che in alcuni ambiti della ricerca è pieno di mancini nel mio lavoro io me ne accorgo perché quando passiamo la vita alla lavagna e il mancino fa un disastro la lavagna perché sporca tutto e sono tanti i mancini nella matematica li vedi subito comunque fisici è un'altra cosa interessante nel fisico perché uno potrebbe dire che la verità è che quando si arriva a livelli estremi in tutti i campi le differenze poi di formazione contano contano meno quindi a livelli avanzati di scienza un informatico un matematico un fisico tutto sommato hanno imparato così tanto dopo la laurea che quasi quasi non conta il punto di partenza conta di meno conta un po' di meno però è vero che c'è qualcosa nella testa del fisico che io bonariamente direi è una strana forma di incoscienza e di arroganza cioè il primo pensiero che ti viene in mente è quanto sarà difficile sta cosa se arriva uno e mi dice hanno appena inventato GPT-4 c'è da leggere una pila di 120 articoli tecnici scritti in linguaggio statistico informatico in inglese il fisico dice quanto sarà difficile me li leggo non ci pensa nemmeno è un modo di approcciare le cose me li leggo poi in caso ci provo lo faccio io lo ripeto lo programmo è un modo di pensare nel mio caso particolare mi ha tutto molto sia la fisica e devo dire la verità anche il mio liceo classico entrambe le cose liceo classico hai fatto entrambe le cose mi hanno aiutato è un modo di di non di collegare cose distanti e di pensare in modo razionale secondo me sono super curioso come mai il classico e come mai trovi collegamenti anche con con questo ma intanto perché uno va dal classico a fisica e la risposta è incoscienza perché non sarebbe da consigliare a tutti però si può sopravvivere se uno vuole provare e si può fare già il fatto di parlare di linguistica perché oggi abbiamo parlato ma è ovvio che stiamo parlando di linguistica la linguistica è la traduzione è il concetto di pensare a un testo in modo così profondo e tutte cose che io ho amato molto liceo classico occuparmi di problemi adesso etici filosofici culturali alla fine se abbiamo tempo parliamo dell'impatto culturale del momento storico vedere le cose in chiave storica e culturale interpretare gli avvenimenti con grande distanza storica si impara lì ecco mi ricordo liceo classico quando si studiava per esempio con i nostri insegnanti di italiano o di latino dividere la storia in periodi in cui le idee cambiano perché cambia piccolo cambiamento tecnico innesca una serie di reazioni che dopo cent'anni la cultura è cambiata vedere il mondo da lontano collegare avvenimenti su questa scala qui si studia con la storia e la storia è una scienza e la fisica fa cose diverse ecco in questo momento siamo in un momento storico ecco quindi probabilmente non è tanto la formazione che ti ha dato la fisica quanto la mentalità della persona che si avvicina alla fisica che è la mentalità di una persona molto curiosa no? questo aiuta e dobbiamo ancora chiudere il cerchio perché ancora non ho una risposta alla domanda l'algoritmo che ci ha rubato il segreto della conoscenza ah chiudiamo il cerchio perché io non ho non ho fatto in tempo a finire il libro quindi non ho questa risposta chiudiamo questo cerchio sono due cerchi da chiudere forse questo è uno l'altro ho dimenticato quindi l'altro mi volevi dire forse del momento storico mi dicevi e sì è forse un po' collegato lo colleghiamo allora è ovvio che Alan Turing inizia questa grande ricerca Alan Turing tra l'altro anche lui si occupa di fisica e matematica come formazione e poi inventa l'informatica e prima di morire si occupa di biologia tra l'altro comunque lui ci diceva che secondo lui nel tempo il linguaggio stesso cambierà e il linguaggio cambierà in modo tale che noi riusciremo a usare la parola pensare e ragionare intelligenza in modo diverso per accomodare anche le macchine e in effetti è vero che noi la parola volare non l'abbiamo creata per gli elicotteri e per le mongolfiere ma per gli uccelli ma nel tempo abbiamo iniziato a decidere che anche l'elicottero può volare magari chissà quanta gente aveva obiettato all'inizio questo non vuol dire volare la macchina non vuol dire veramente pensare dovremmo lentamente adattare il linguaggio ma lui si aspettava anche altre cose che la macchina avrebbe imparato a conversare mediante apprendimento automatico e poi ci dava degli strani avvertimenti e uno era che potrebbe anche superarci e faceva una domanda strana diceva usando un'analogia strana della fisica diceva in un reattore nucleare diceva con poca massa di materiale fisso e con poco uranio non capita niente se aggiungo altro uranio si raggiunge una massa critica oltre la quale inizia la reazione spontanea come i dati che servono in grande quantità e lui diceva e se fosse che le macchine intelligenti hanno una soglia critica oltre la quale iniziano a imparare da sole è quello che è quello che oggi stiamo forse vedendo era strano come riusciva a pensare in modo diverso da noi e a trovare il nozzolo della domanda Turing ecco a me mi sono chiesto cosa capirebbe cosa direbbe lui se potesse essere se non si fosse tristemente suicidato perché poi nel 54 è stato arrestato perché era omosessuale in quegli anni in quel paese era illegale essere omosessuale l'hanno obbligato a questa terapia di ormoni lui ha perso la testa si è tragicamente tolto la vita e se fosse vivo oggi secondo te cosa direbbe si stupirebbe che le macchine conversano io penso che si stupirebbe che le macchine conversano e che tutti hanno in tasca un computer disegnato da lui perché lui ha disegnato i primi computer ora io ho in tasca un telefono che è un computer che è una macchina ma si stupirebbe di più che lo scorso anno a novembre il primo ministro dell'Inghilterra ha chiamato tutti gli altri capi di stato a Bletchley Park nello stesso edificio dove Turing ha lavorato per decodificare il codice tedesco della guerra mondiale stesso posto chiamano tutti e si parlano di come gestire l'intelligenza artificiale sognata da lui in quel posto e sull'agenda tra i primi punti c'era questo come fare in modo che anche nel mondo delle macchine trattiamo in modo equo e rispettoso tutti le minoranze era nell'agenda in alto penso che si penserebbe Turing che si pongono il problema di non discriminare nessuno potrebbe essere un film a volte la realtà è più interessante di un film pazzesco e ho un'ultima domanda o meglio un ultimo argomento di cui abbiamo parlato a Como e che è un argomento chiave del mio canale che è quello della concentrazione perché tu in quanto scienziato di fama internazionale autore devi da una parte lavorare con estrema concentrazione immersione isolamento però dall'altra parte sei un professore quindi hai a che fare con gli aspetti burocratici le lezioni le email di nuovo in quanto autore avrai tutta una serie di impegni che non sono la pura scrittura e la pura ricerca come dividi questi due aspetti perché noi ne abbiamo parlato a Como e ci siamo ritrovati su molti aspetti di concentrazione di flusso ed è estremamente interessante perché per produrre tutta la conoscenza scientifica e divulgativa che hai prodotto serve concentrarsi benissimo quali sono le tue abitudini a riguardo? la risposta la risposta è abitudini brava ho imparato nel tempo ma nessuno me l'aveva insegnata è bene che oggi la gente possa sentirne parlare da te e impararle perché non ha senso riscoprire tutto da zero io ho dovuto scoprire da solo come tanti e poi oggi si può studiare le abitudini sono importanti un'abitudine che ho io all'inizio cercavo di ammaestrare tutta la gente intorno a me a lasciarmi in pace a non parlarmi a non mettermi in testa dei pensieri quando entro nel mio flusso in cui programmo programmavo molto da giovane adesso meno ora scrivo ho visto che non è facile convincere tutti a capire a fondo e non si può dipendere da questo perché basta uno e quello che ho imparato è toglimi dai piedi e quindi ho d'abitudine che mi sveglio molto presto quando la gente dorme vado in un posto isolato prima di parlare con qualcuno e passo alcune ore da solo a leggere a scrivere a programmare a calcolare e quelle ore lì sono preziosissime le difendo ma le difendo nel senso che me ne vado nessuno ha l'opportunità di chiamarmi non rispondo al telefono spengo tutto sempre passo la vita isolato quelle ore lì bastano poche ore bastano 4-5 ore sempre e non cambiare perché solo deve dimenticare il resto del mondo deve fare le stesse cose ogni giorno ecco ti capita di o magari ti capitava di dimenticarti magari delle ore che passavano di impegni nel momento in cui entravi in un flusso di ricerca di scrittura fin da bambino e adesso ancora oggi io costantemente la mia vita è una lunga sequenza di gente che mi sgrida perché mi sono dimenticato di fare qualcosa ok tuttora adesso però è una bellissima sensazione quella di perdere contatto con la realtà e immergersi nel flusso leggere tanti articoli e improvvisamente collegarli tutti c'è il giorno arriva sempre il giorno in cui uno lavora settimane per quel giorno in cui tutto ha senso il click tutto si clicca tutto va a posto e uno poi riesce a ripeterlo in parole chiare è una situazione incredibile è lì cosa vuoi può stare un'ora cinque ore sei ore non lo sai infatti il ricercatore più famoso di quest'ambito che è Mihaly Cixen Mihaly che avevo citato anche nel mio nel mio TED fa il paragone assolutamente azzeccato tra questo stato e la felicità perché non quasi non ha non apprezzo un momento come quello è una sensazione piacevolissima quella di collegare le cose comprendere le cose e vederle come stanno insieme tutte insieme non è facile poi descriverlo perché è un'immagine spesso ma si giustifica tutta la fatica sì credo che l'altro lato del cervello quello sociale e le interruzioni non è facile perché tutti noi dobbiamo lavorare e c'è gente nel mio mondo del lavoro che vive di task quindi hanno otto ore al giorno fanno 16 task di mezz'ora e hanno il calendario e li fanno tutti quanti sono pagati sono contenti così io faccio dei trucchi terribli per esempio posso dirlo in italiano perché i dati in Inghilterra questo non lo capiscono io non uso mai il calendario dell'università perché se comincio a usarlo vedono dove sei libero vedono e l'idea è se sei impegnato dalle 4 alle 6 vuol dire che sei libero dopo e prima quindi quando lo usi stai già pubblicando i buchi liberi che loro possono rubarti se tu non lo usi hanno imparato non hanno è uno dei tanti trucchi però vado in ufficio sono sempre in ufficio io ho un bel cartello sulla porta di non disturbarmi questi entrano lo stesso poi sparisco e ho dei posti che non posso rivelare in cui vado lì scrivo e poi ritorno quando ho finito sì immersione la mattina e task un po' più burocratiche il pomeriggio che è anche il metodo di cui parla Cal Newport nel libro Deep Work che tra l'altro è un ricercatore proprio nell'ambito dell'informatica e ha scritto uno dei libri più influenti su questo ambito quindi quello dell'immersione per produrre idee difficili e di valore ed è proprio isolarsi la mattina e fare il resto nel pomeriggio lui stesso è un professore di informatica sì la mattina è che bisogna seguire i propri ritmi il mio ritmo è la mattina uno sbaglio che facevo e non dovete fare per molti anni mi ero convinto quando abitavo in America mi ero convinto che servisse lo zucchero e quindi usavo lo zucchero per aiutarmi a pensare e anche se al momento sembra una buona idea è una pessima idea sia la produttività scende ma anche fa male alla salute ho scoperto adesso da molti anni che riesco a produrre benissimo senza alcuno zucchero infatti io fino a ieri ero in Francia per una gara di memoria con i miei allievi che tra l'altro è andata molto bene e eravamo tutti insieme nell'appartamento e a colazione io ho detto ad alcuni di loro che avevano abitudini alimentari magari non perfette non mangiate lo zucchero adesso a colazione vi faccio le uova ho fatto tipo 16 uova sode per tutti mangiamoci proteine grassi sì magari un po' di carboidrati ma non zuccheri perché noi avevamo bisogno per tutta la giornata di un'energia stabile non bastava i piccoli zuccheri che magari ti dura un'ora o anche meno ma serviva stabilità e quindi ci siamo mangiati tutti le uova e abbiamo vinto la gara sì sì e ci vuole tempo però per abituarsi sì ci vuole tempo io ci ho messo del tempo a eliminarlo interamente per i primi tempi ti sembra di non riuscire poi diventa automatico quindi ci sono dei sbagli che si fanno ora si può imparare e ci sono delle abitudini che sono utili il flusso è un ottimo modo di concentrarsi e ci sono dei trucchi per esempio usare le mappe mentali se uno ha bisogno di fare la mappa mentale tutte le cose che si insegnano alla gente anche se uno per esempio è dislessico mille trucchi che si insegnano a un dislessico gli stessi valgono per noi perché siamo tutti più o meno lì è un modo di semplificare il pensiero di renderlo più fluido esatto nello grazie mille è stata una chiacchierata piacevolissima e super interessante in primis per me e consigliamo il libro che possono trovare su amazon giusto su amazon è in libreria finalmente in libreria beh a questo punto ti chiedo anche di firmarmi il libro grazie firmo qui perfetto lo mostro perfetto grazie